Contestato Silvio Berlusconi oggi 4 marzo 2018, giornata delle elezioni politiche di questo anno qua Silvio si è regato per l'appunto a votare quando ad un certo punto un attivista appartenente al gruppo Femen si è presentato in ansia a lui a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era regato per espletare il suo voto come di consueto fa ed ecco che la ragazza gli avrebbe urlato Berlusconi il tuo tempo è scaduto si è alzata quindi in piedi, ha sfoggiato un seno scoperto e la scritta che di colore nero campeggiava nel suo busto, nel suo tronco sempre nel 2013 ti ricordo che Berlusconi è stato di nuovo vittima tra virgolette di un'incursione da parte di un gruppo di Femen sempre attiviste russe che proprio in quell'occasione lì diciamo così che contestarono il leader di Forza Italia e personaggio appartenente al mondo della politica italiana ovviamente Berlusconi non ci ha dato troppo peso e ha scherzato e avrebbe detto le seguenti parole non l'ho visto, non sono riuscito a vedere niente e diciamo così che Berlusconi ha votato nel seggio di via Scrosati nel cuore di Milano, capoluogo di la regione Lombardia ti ringrazio per l'ascolto, il video termina qua iscriviti se vuoi, commenta, fammi sapere cosa ne pensi un saluto e al prossimo video da narratore italiano